mi serviva un'auto per le gare di derappata dal momento che usarne una per tutte le gare avrebbe significato due grossi problemi primo bisognerebbe montare e smontare ogni singola volta gomme sospensioni e differenziali oltre che rivedere di volta in volta il setup generale dell'auto secondo si andrebbe a snaturare il gioco stesso che consente di avere più di un'auto proprio per adattare ognuna alle differenti tipologie di competizione mi era ballinata quest'idea mai sana di prendere il ranger over sport e adattarlo al drift il popolo sovrano dei miei follower però tramite le instagram stories si è espresso a favore della mazda rx7 non è un'auto che mi entusiasma tuttavia i sondaggi vanno rispettati dunque vi lascio il timelapse della sua completa trasformazione da stock a sui drift edition buona visione è un'auto di ritmo di bel belia Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.